Questo spazio è realizzato in collaborazione con Fondazione CR Trieste. Eccoci qua, stavamo parlando con il nostro primo ospite, il professor Claudio Tonzar, presidente di Psicoattività APS, della forma delle bottiglie della Coca-Cola. Ma a caso mai perché è anche bello parlare con gli ospiti prima di andare in diretta di cose apparentemente fatue, ma che in realtà poi fatue non sono. Benvenuti in un'altra puntata di Trieste in diretta, oggi come sempre due ospiti. Nella seconda parte parleremo con il professor Ludovico Carrino dell'Università di Trieste, ma non solo, di uno studio sulla salute mentale delle donne e delle donne che lavorano. Quindi sarà altrettanto interessante come la prima parte, durante la quale appunto presentiamo la terza edizione del Festival della Psicologia che si terrà a Trieste un pochettino più avanti. Ma siccome collegato al Festival c'è anche un concorso e invece per il concorso la scadenza è un po' più vicina, allora abbiamo detto intanto magari anticipiamo, poi dopo magari sotto l'appuntamento, se lei avrà voglia di tornare, sarà sempre piacevole. Allora, io volevo chiedere intanto una cosa molto generale, perché io credo che non ci sia aggettivo utilizzato in maniera più, come posso dire, eccessiva ed eventualmente sbagliata di psicologico o avverbio utilizzato in maniera più sbagliata di psicologicamente. E' molto utile, molto comodo utilizzarli, specialmente quando uno è accorto di… Ma psicologicamente si potrebbe dire… Allora, so che è una domanda di quelle che non bisognerebbe mai fare, ma quando noi parliamo di psicologia, di che cosa parliamo esattamente? Beh, interessante però, la domanda in realtà è molto interessante, perché un po' come… dipende proprio dall'expertise che una persona ha in un campo, un esperto di montagna, di sci, percepisce 10-15 tipi di nevi diverse, questo è stato anche studiato in linguistica, dove gli eschimesi ad esempio usano moltissimi termini per la parola neve, distinguendo le varie tipologie, un po' e questo accade in tutti i campi, quindi quando noi diciamo banalmente, genericamente, popolarmente, psicologicamente, in realtà ci riferiamo a tantissimi aspetti diversi, che sono gli aspetti mentali, gli aspetti emotivi, gli aspetti affettivi, gli aspetti relazionali, tante dimensioni diverse che la psicologia studia, quindi generalmente la psicologia, dando una definizione molto semplice, studia i processi mentali e il comportamento e il rapporto col comportamento umano, però dentro questo ambito generale possiamo trovare dalla percezione, le emozioni, la motivazione, l'apprendimento, l'affettività, la relazione, dimensioni molto diverse che toccano l'individuo certo, ma toccano anche le relazioni, la società e la comunità, quindi è molto ampio lo spettro, quindi psicologicamente si adatta perché è ampio lo spettro. Forse in realtà è talmente ampio lo spettro che in realtà va bene perché… In realtà l'interlocutore lo capisce perché inferisce dal contesto della frase qual è l'accezione specifica che uno… però è effettivamente molto generico. Ma c'è ancora… io sentivo così, poi le farò un'altra domanda su una cosa che mi sta particolarmente a cuore, c'è ancora un po' la… come posso dire, la paura di rivolgersi allo psicologo, cioè è sempre qualche cosa che non viene detto, oppure risulta sempre qualcuno che dice mi sono persino rivolto allo psicologo, eccetera… Diciamo che lo stigma si è gradatamente, leggermente dissolto nel tempo, ecco, è molto cambiata la percezione sociale della professione dello psicologo, dell'intervento, anche degli studi psicologici che sono dagli anni 60 a oggi, rimangono però ancora alcune resistenze resistenze al socializzare, rendere pubblico questo. Anche se abbiamo visto anche sulla stampa come personaggi pubblici lo espongono, lo rendono pubblico attraverso i social come un elemento anche rilevante, ecco, dal punto di vista comunicativo, quindi diciamo che gran parte di questo stigma si è ridotto, rimangono però alcune persone per cui questo prevalentemente verrà il fatto che, un po' come prima si diceva, c'è una percezione un po' generica, rimangono ancora delle discrasie tra quello di cui la psicologia si occupa e quello che è nella mente delle persone, per cui anche questo festival un po' cerca di lavorare in questo senso perché noi parleremo di benessere delle persone, mentre generalmente quando si pensa allo psicologo si pensa al malessere, al disagio diciamo, uno degli elementi anche che le ricerche hanno cercato di evidenziare è che ad esempio alcune persone non riescono a discriminare bene tra la figura dello psicologo e quella dello psichiatra ad esempio, rimane ancora un terreno abbastanza dubbio, però comunque molti passi in avanti si sono fatti, le persone ritengono che l'aiuto, il supporto psicologico possa essere un elemento importante non solo per trattare delle patologie ma soprattutto per vivere meglio, migliorare la qualità della vita. Io non voglio portare esperienze personali eccetera, però posso raccontarla perché tanto poi l'ho già anche raccontata, in un momento in cui avevo un problema che un po' condizionava le mie giornate e su suggerimento di una mia amica psicologa tra l'altro che però non esercita dice vai a fare qualche seduta, male non ti fa e devo dire la verità, adesso non so se a questa psicologa farà, comunque in tre sedute ho risolto il problema, nel senso quindi voglio dire per me il concetto di benessere alla seduta psicologica è associato, proprio perché dopo un periodo di malessere, durato non poco tempo se devo essere sincero, ma che non voleva affrontare perché pensavo boh ma io ho tutti gli strumenti per farlo, poi questa cosa non rischiava di così trascinarsi eccessivamente, ho detto boh vado insomma tanto, appunto, non è che cosa succede, anche questo è interessante questa esperienza personale perché ci dice anche qui nelle persone probabilmente basandosi su quelli che sono gli stereotipi pensa all'intervento psicologico come qualcosa di lungo, pesante, che dura una vita, che è interessante dalla teoria freudiana, quello che è stata un po' la storia diciamo più della psicoanalisi che della psicologia o della psicoterapia, invece le psicoterapie brevi o comunque questi interventi che si chiamano di cancelling sostanzialmente, dove sostanzialmente la persona affronta un aspetto specifico e attiva le risorse che ha già lui dentro. Io avevo fatto presente qual era il problema, nel senso, avevo detto quello che volevo risolvere e devo dire la verità, tre sedute. Funzionano anche, ad esempio, all'università, nei vari atenei, io insegno all'università di Urbino ma anche qui a Trieste, esistono dei servizi di cancelling psicologico rivolti agli studenti che sono molto utili. Allora, su questo magari arriviamo alla fine perché volevo chiedere una cosa di abbastanza specifico, però non vorrei poi dopo togliere spazio al festival eccetera. Allora, psicologia e benessere delle persone è appunto l'argomento di questa terza edizione che parte verso ottobre. Sì, parte il 21 ottobre da Trieste, dalla sala del Portovecchio che si chiama, il centro congresso di Portovecchio. Lì si apre con un intervento sul tema, visto che parliamo di sfide, nuove sfide per il benessere delle persone, parleremo di ambiente che è un aspetto veramente centrale all'interno delle tematiche attuali e dove anche qui la psicologia, lavorando assieme a chi si occupa di pianificazione ambientale piuttosto che di architettura, ha dato luogo a riflessioni interessanti rispetto agli ambienti che ci fanno stare bene, gli ambienti che ci fanno stare male, intendendo come ambiente non solo la natura ma anche le costruzioni degli umani, un ospedale piuttosto. Quindi il tema sarà un po' questo, il benessere barra malessere generato dagli ambienti che noi creiamo, che noi roviniamo talvolta. Mi incuriosisce, nel senso mi incuriosisce, io in questi giorni per puro caso, le sa che quando si va su Youtube uno digita Marcello Mastroianni e poi dopo c'è la colonna, la mitica colonna destra dove c'è di tutto e di più, ti propongono delle cose, per puro caso, ripeto perché mi sono imbattuto nella pagina di un posturologo americano e questo tipo di ragionamento è veramente trasversale perché lo fanno appunto, lo si fa parlando di psicologia, lo si fa parlando anche di fitness, il concetto che tu stai meglio se tutto quello che sta attorno a te è fatto bene e ti dà serenità, ti dà gioia, addirittura lì poi usano dei termini forse un po' eccessivi… E anche felicità addirittura si usa, per quanto sia ambiguo ma in realtà è proprio così, è un insieme di elementi, ma lei citava prima anche il fitness, in realtà ad esempio uno delle giornate, uno dei focus… Ci ho azzeccato, più o meno… Sì, nel senso che si parlerà del movimento, l'aspetto fisico, può essere lo sport, può essere l'attività fisica e la relazione con il benessere mentale e psicologico, è un tema su cui molta ricerca è stata fatta ultimamente e che tocca tutto l'arco dell'evoluzione umana, dal bambino all'anziano, ci sono dei dati molto forti che ci dicono che l'attività motoria fa star bene anche psicologicamente, non solo fisicamente e anche in relazione a delle patologie piuttosto anche marcate… E di ciò magari qualcuno si accorge quando non pratica determinate attività, è anche vero questo, stai bene, quando non le fai più capisci che qualcosa ti manca, poi ci pensi un attimo e dici cosa mi manca rispetto a… mi manca andare a correre, mi manca andare in bici eccetera e poi fai mente locale… E' proprio una questione di equilibrio come diceva lei prima, l'equilibrio generale di tutta una serie di elementi della vita, dove l'attività motoria ha una forte relazione con la mente, con la percezione della qualità della vita… All'interno del festival c'è anche, ne abbiamo visto prima proprio in sovrimpressione, questo premio, il primo premio psicologia e benessere delle persone, di che cosa si tratta? Intanto eccolo qua abbiamo il… Certo, si tratta di una nuova iniziativa perché si tratta del primo premio che abbiamo bandito, il festival è sostenuto dall'assessorato alla cultura della regione Filuri Venezia Giulia e anche dalla fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia e quindi questo ci ha consentito di bandire questo premio che dal punto di vista economico è simbolico, il primo diciamo il vincitore avrà una ricompensa di 600 Euro, il secondo classificato 300 Euro e il terzo lavoro che identificheremo a 150 Euro, ma sostanzialmente premieremo dei giovani che sotto i 36 anni che è il requisito di partecipazione che hanno prodotto o delle tesi di laurea o delle ricerche nel campo del tema affrontato del festival, ovvero la psicologia del benessere. Sul sito del festival che state vedendo potete trovare le informazioni, il regolamento, la domanda e l'importante è che la scadenza è il 20 settembre, quindi i tempi sono un po' stretti, ci rivolgiamo sostanzialmente ai laureati, ai giovani che si sono laureati in psicologia oppure che hanno un dottorato di ricerca recentemente e che hanno fatto una tesi occupandosi di questo tema. In uno dei nostri eventi faremo la premiazione e inviteremo e verrà presentato anche il lavoro di ricerca, perché nella nostra associazione noi abbiamo sempre cercato di creare degli eventi per quanto riguarda la divulgazione scientifica che anche coinvolgano dei giovani. Questo è importante secondo noi, penso che ormai va in una direzione abbastanza condivisa, ma questo riguarda sia la parte scientifica di un festival che ha come obiettivo quella della divulgazione scientifica, ma anche per quegli inserti che ogni tanto creiamo di attività artistiche correlate, anche lì il coinvolgimento dei giovani artisti abbiamo visto è veramente una risorsa e ci dà soddisfazione. Difatti se non mi sbaglio, se non ricordo male, noi una delle prime volte che ci avevamo incontrati in trasmissione si parlava di musica. Sì, si parlava di musica perché uno dei partner del festival è Progetto Musica di Udine che è un organizzatore di concerti tendenzialmente in musica classica, ma con uno spettro allargato e mi ricordo che avevamo anche in collegamento il direttore. Io gli avevo chiesto quella volta, poi non so se, le rifaccio la domanda perché questo è abbastanza curioso, nel senso uno si fa da solo una compilation di brani che gli piacciono, mette che ne so 20 brani in un cd, poi inevitabilmente di quei 20 brani che lui ha scelto, cioè che non ho acquistato un cd, cd già fatto, li ho scelti io, su quei 20 brani 3-4 regolarmente si pente di averli inseriti, dice ma se sapevo questo lo lasciavo fuori. Che cosa scatta? O quantomeno dove sta il problema? Prima quando io ho una sorta di horror vacui e quindi metto dentro qualunque cosa, o dopo quando in realtà ascoltando il cd dico, ma questo forse... Ho difficoltà a rispondere con dei dati, però posso così ipotizzare un effetto che può spiegare questo, nel senso che io immagino che quando una persona scelga una sequenza di brani la fa conscientemente, prende i brani che in quel momento gli piacciono in qualche maniera, magari un po' di più, un po' di meno, ma comunque sopra una soglia, sopra una soglia di piacevolezza. Poi però il riascolto, è un effetto del riascolto, perché il riascolto di una struttura ad esempio musicale probabilmente semplice, che immediatamente magari impatta potrebbe a lungo termine determinare un calo, mentre ci sono ad esempio dei pezzi che vengono a essere apprezzati con più ascolti, mentre altri, il cui primo esporto è molto, è praticamente forte, però poi tende un po' a calare. Questo dipende anche dalle variabili musicali, ma anche mnemoniche, dalla capacità di memorizzare ad esempio un brano, perché chi si occupa di musica ha provato tutto, una volta venne contattato da una casa discografica perché cercavano di trovare un sistema per quantificare la memorizzabilità di un pezzo, che è uno degli indici che rende, che dà successo molto spesso, ad esempio nella musica leggera questo. L'anno scorso credo che quel brano di Fedez con Orghietta Berti, penso che era uno dei più orecchiabili che abbia mai sentito. E questo aspetto che noi diciamo che è orecchiabile ha a che fare con degli aspetti certamente musicali, di sonori, di hertz, però ha anche a che fare con la memorizzazione. E che ci dice, ci dà, noi sappiamo cosa avviene dopo in sostanza, è un po' come vedere, come quando un bambino rivede 7000 volte lo stesso, il piacere è dato anche dalla reiterazione. Già che ci siamo allora, questa non è colpa mia, ma insomma, per esempio, si sa che ci sono delle battute di alcuni film che non sono mai state pronunciate, per esempio, suonala ancora Sam, non viene mai pronunciata in Casablanca, si dice suonala Sam, ma suonala ancora Sam, non viene mai pronunciata. Eppure noi la diamo per acquisita, come se appartenesse al film. Questo è un discorso. Ma c'è un altro discorso, che delle volte, anche quando noi rivediamo un film parecchie e parecchie volte, c'è sempre qualche cosa che noi crediamo di ricordare, anche nel nostro film preferito, e forse questa è una delle ragioni per cui poi li rivediamo, ma che per un motivo o per l'altro ci sfugge, che sia una battuta, che sia una sequenza, che sia, che ne so, delle volte anche qualcosa che ha a che fare con la colonna musicale, eccetera. Noi siamo convinti di rivedere lo stesso film, invece c'è sempre qualche cosa, non so se è una mia… No, no, ci sono tantissimi effetti che spiegano questo. Dall'altro la memoria umana è ricostruttiva, cioè, quindi questo ha a che fare con ciò che abbiamo già nella nostra mente. E la nostra mente cambia, da un punto di vista mnemonica, mnemonica a lungo termine, nel corso della nostra vita, perché gli accadimenti, le conoscenze cambiano. Quindi l'interazione tra la nostra mente e lo stimolo, in questo caso il film, produce un esito diverso, perché la nostra mente è cambiata in qualche maniera. Dall'altro lato è ricostruttiva, però non è che percepisce tutto, non riesce a rappresentare, non è una videocamera che raccoglie tutto ciò, e quindi necessariamente perde del materiale per economia cognitiva, perché non potremmo funzionare come la nostra mente non potrebbe funzionare se non agissimo selettivamente. Quindi la seconda visione, la terza visione, potremmo rivolgere la nostra attenzione a dei particolari che la volta scorsa non siamo riusciti, mentre magari alcuni ce li ricordiamo bene e quindi è un po' come un guidatore che… E' abituato a fare una stessa sì. Esatto, e comincia a vedere cose che prima non riusciva a vedere in qualche maniera. Allora, il festival è, possiamo dire, itinerante? Sì, è itinerante nel senso che prima dicevamo parte da Trieste il 21 di ottobre, ma poi ogni venerdì a seguito fino a metà novembre si sviluppa in altri quattro luoghi, ovvero sia a Gorizia, a Palmanova, a Gradisca di Sonzo e a Cormons. In ogni luogo viene toccato un tema che è pertinente con appunto il benessere umano, talvolta viene accostato, adesso si parlava del cinema, a magari la visione di un film, ad esempio abbiamo un incontro a Gradisca sul tema dell'Alzheimer nel senso di alcuni dati di ricerca che dimostrano come un'attività artistica, la produzione artistica di pazienti Alzheimer può avere un ruolo, diciamo tra virgolette, terapeutico in questo tipo di pazienti e lì accosteremo sicuramente la presentazione a un film che immagino sarà il padre, esattamente da un esperto di cinema non ho voluto dirlo, però ce ne sono anche altri. Lei adesso mi analizzerà in questo, io ho una, ma è facile qui capire anche perché, io non ho alcuna difficoltà di parlare della demenza senile che afflisse mio padre negli ultimi anni della sua vita, ho una difficoltà enorme nel vedere rappresentata quella malattia, ma penso sia una cosa abbastanza logica. Sì, è anche molto frequente, posso dire che anche delle persone con cui ho parlato, che condividevano come un'esperienza familiare, la visione di questo film è stata abbastanza, direi forte, ecco diciamo forte. Io ho visto di recente soltanto un film dove veniva trattato questo argomento, sbagliando, perché la faccio il più breve possibile, questo film rappresentava il ritorno al cinema di Glenda Jackson e devo vedere assolutamente questa attrice straordinaria che pronuncia un inglese splendido e supponevo forse un giallo, non so perché mi ero convinto di questo. Poi quando il film è arrivato via Amazon, ho letto la trama e ho detto accidenti. L'ho visto e devo dire la verità, lei è stata bravissima, o chi poi ha anche scritto il film, a individuare anche alcune delle manie che mio padre aveva in quel periodo, però lì è stato un errore fruttuoso perché poi ho visto un bel film, però se posso ci sto distante, credo sia inevitabile. È assolutamente inevitabile. Ecco, ci abbiamo verso la conclusione, volevo farle questa domanda che avevo in mente di farle prima, ma lei vi ha un pochettino anche accennato. In questi anni, diciamo la verità, il termine, l'aggettivo psicologico, l'avverbio psicologicamente, molto spesso sono stati toccati parlando delle conseguenze della pandemia e è assodato che una delle categorie più colpite in maniera forse più subdola, se vogliamo, da questo punto di vista è quella dei ragazzi, degli studenti, sia delle, ma diciamo anche, so, medie, superiori e università. E anche di chi ha appena finito l'università, incomincia il lavoro e si trova un po' senza riferimenti, eccetera. Tant'è vero che l'università di Trieste, aveva detto il Rettore, ha potenziato lo sportello psicologico per venire incontro a queste esigenze. È un problema quindi sentito e del quale, secondo lei, vi dovrete occupare per più tempo? Sì, direi che è un problema, anche qui c'è stata una marea di lavori di ricerca che stanno uscendo per capire effettivamente se è vero o non è vero, in che casi, in che fasce d'età questo impatto è stato forte sugli aspetti dell'apprendimento, della relazione e così via. È chiaro, la fascia d'età che lei ha citato è una fascia d'età che ha un bisogno naturale di relazione e di sviluppo relazionale, che chiaramente è stato interdetto dalle norme che sono state decretate, obbligatoriamente vista la situazione. Sicuramente abbiamo tutta una serie di elementi che ci fanno pensare che effettivamente c'è stato in una buona parte dei ragazzi, non voglio dire un disagio marcato, ma insomma uno sbandamento, una carenza che si è riflettuto. Tra l'altro chi poi lavora in questi centri di consultazione e di cancer psicologico ci dice di avere più persone che arrivano, più ragazzi che arrivano, quindi sicuramente è stata una buona scelta quella dell'Università di Trieste di potenziare questo. anche sull'apprendimento scolastico comunque ci sono dei dati, anche sui bambini più piccoli ci sono dei dati che dimostrano che l'interruzione della frequenza scolastica in sede ha determinato delle carenze di apprendimento. C'è uno studio olandese che in Olanda c'è stata una chiusura delle scuole di soli 6 settimane e hanno quantificato una perdita dell'apprendimento corrispondente alle 6 settimane, è come se non fosse successo nulla in termini di apprendimento in quella fase in cui nelle 6 settimane c'è stata una formazione erogata a distanza. Quindi diciamo che è vero che anche altri lavori non mettono in luce un effetto così forte, ad esempio in Nord Europa ho letto degli studi dove gli studenti non hanno avuto un impatto così forte, però erano anche molto abituati alla formazione a distanza, dipende anche dal sistema scolastico, però diciamo in termini generali più umani, più di relazione è chiaro che un impatto forte c'è stato e questo si ripercuota. A me preoccupa più il fatto che possa andare avanti, perché là come si recupera? se il gap non è tanto appunto di apprendimento? Noi speriamo che si recuperi similmente all'esperienza che prima lei personale ha descritto agli spettatori, ovvero sia con un'attivazione di risorse personali su un aspetto specifico, un supporto lieve, breve che possa, anche perché poi i ragazzi molto spesso hanno le risorse dentro di loro, però si sentono un po' persi, hanno un po' una sensazione, io vedo anche gli studenti che avevo in aula in questa situazione in cui avevamo un po' di studenti in aula, un po' a distanza, quelli che erano in aula mi raccontavano di un enorme bisogno di stare lì, io non ho mai percepito un'attenzione così forte in aula come quest'anno accademico con gli studenti che avevo in aula, avevano bisogno di stare lì, di comunicare, quindi questo, sono quasi 30 anni che tengo un corso, quindi effettivamente qualcosa c'è stato. Allora ricordiamo che per partecipare al primo premio per la ricerca sul tema psicologia e benessere delle persone all'interno della terza edizione del Festival della Psicologia che partirà in autunno da Trieste, ma che poi avrà altre quattro sedi, le domande devono essere presentate entro il 20 settembre, quindi a chi fosse interessato sape che c'è questa scadenza, dove invece poi non bisogna iscriversi al Festival, si può partecipare. Noi speriamo che ci sia l'ingresso libero senza prenotazione se tutto andrà come noi vorremmo. Allora grazie al professor Claudio Tonzar, presidente di Psicoattività APS e organizzatore del Festival della Psicologia, buon lavoro e casomai se ha voglia magari ci vieni a trovare tipo ai primi di ottobre, così andiamo ancora più sul programma del Festival. Con piacere. Grazie ancora, dopo la pubblicità cambiamo ospite e cambiamo argomento. Eccoci pronti per la seconda parte di Trieste in diretta, siamo in compagnia del professor Ludovico Carrino dell'Università di Trieste che ringrazio per essere venuto a trovarci, con i quali, come abbiamo annunciato precedentemente, parliamo di uno studio che è stato pubblicato su una importante rivista economica internazionale che si chiama Labour Economics ed è uno studio che riguarda salute mentale delle donne e lavoro. Intanto le chiederò come lei è stato coinvolto in questo studio. Intanto grazie per l'invito, io lavoro al Dipartimento di Economia all'Università di Trieste, sono visiting professor, quindi ho un ruolo affiliato al King's College di Londra dove ho lavorato tanti anni e dove ho iniziato questo lavoro che adesso sto continuando a Trieste. Il lavoro fa parte di una ricerca più ampia ed è fatto in collaborazione con due studiosi, uno di Milano, Elena Meschi, Università Bicocca e uno di Torino, Michele Belloni. Sono stato coinvolto in questo lavoro perché parte in realtà del mio percorso di ricercatore. Io studio quelle che si chiamano determinanti sociali della salute, quindi cerco di trovare evidenza empirica che spieghi, che aiuti i politici, gli amministratori e le persone a capire quali sono gli aspetti della nostra vita, oltre la biologia, oltre la genetica, che hanno un impatto importante sulla nostra salute e ce ne sono di sorprendenti più o meno, dal matrimonio all'istruzione, al rapporto con le persone, alla qualità del lavoro, oltre che a quelli più, non dico scontati, ma ovvi come l'accesso alle cure sanitarie, il reddito. È molto curioso anche, e questo la dice lunga, su quanto magari poco, mettiamola così, l'opinione pubblica può conoscere del lavoro universitario, oltre che del lavoro di un singolo ricercatore, perché magari uno pensa che gioco forza, chi si occupa di economia a livello di università, per forza di cose debba occuparsi solo ed esclusivamente di conti, si pone poco l'accento sull'aspetto sociale degli studi economici, che magari forse un tempo era anche più centrale, forse adesso, per tutta una serie di ragioni che non sto qui ad elencare, non ci si pensa più di tanto, a livello di pubblica opinione intendo. Sì, ma devo dire che lei ha ragione, però si sta facendo uno sforzo, piano piano, sotto traccia, ma sta prendendo piede, devo dire, il ruolo dell'economia nello spiegare fenomeni sociali, che poi hanno un impatto, se proprio vogliamo andare alla materia, al denaro, hanno un impatto sul portafoglio di tutti, per esempio la salute di ciascuno spiega le scelte di consumo, il fatto che acquisto un certo bene o rinuncio ad acquistare un certo bene, la spesa per servizi sanitari e tutta l'assistenza, si immagini l'assistenza informale, cioè familiare, che i familiari danno ad altri familiari malati, magari, rinunciando magari a ore di lavoro, no? Quindi c'è tutto un ruolo, diciamo, di un approccio economico che guarda un po' meno alla contabilità e meno al management, ma al lato delle scelte individuali e in questo diciamo grande disegno, se vuole dirlo così, del concetto di qualità di vita, insomma, no? Allora, tornando un attimo alle determinanti sociali della salute, no? Lei diceva che ce n'erano di più, come posso dire, intuibili, di più immaginabili per tutta una serie, ma anche di, ci n'erano di, alcune che sfuggono magari sempre, diciamo così, al radar della pubblica opinione. Sì, è vero, dico per esempio l'istruzione, l'istruzione è legata in maniera stretta alle condizioni di salute della popolazione, non in Italia, non solo in Italia, non solo in Europa, ma in un contesto globale. Si può mostrare, non lo so, a Londra c'è questo famoso esempio fatto da uno dei padri di queste teorie delle determinanti sociali della salute, che si chiama Michael Marmot, lui mostra spesso una figura che mostra una delle linee della metropolitana di Londra e per ciascuna fermata mostra l'aspettativa di vita del quartiere, di quella fermata. E passando dall'ovest all'est, passando per il centro ovviamente, questa aspettativa va su e giù in una maniera molto grande e si mostra in più in generale, diciamo come il fatto che una persona abbia fatto degli studi più avanzati è correlato anche in maniera causale con la qualità di vita di questa persona in futuro, perché ha un maggior accesso, ha una maggiore alfabetizzazione sanitaria, ha una capacità di acquistare beni in un altro modo, istruisce i propri figli, influenza le persone che gli stanno accanto, attorno, l'istruzione è una di queste, ma anche i rapporti sociali, per esempio si parla ultimamente sempre di più anche dopo il Covid del problema della solitudine, in Inghilterra questo ha avuto un grande impatto, ci hanno fatto anche un ministero sulla solitudine, la solitudine e l'assenza di rapporti sociali è una determinante importante di salute, non solo mentale, importantissima, ma anche fisica, diciamo, e poi tra i rapporti sociali c'è la qualità del matrimonio, l'essere sposati o meno, avere i rapporti con i figli. Ah, la qualità del matrimonio, io avevo pensato prima al matrimonio to cure. Beh, c'è anche qualche cosa che si può, diciamo, si può dire anche qualcosa in media sul fatto di essere sposati o meno, tendenzialmente ha un effetto positivo sulla salute. Ah, vedi? Sì, sì, ovviamente con dei distinti. Per quello che io mostro più anziano, dove avrei dovuto pensarci. Anche la religione, per esempio, tanti aspetti della vita sono legati alla salute. Per l'economia questo è importante, perché possiamo parlare con chi fa le politiche pubbliche e dire, attenzione, se investiamo in questa dimensione, possiamo aspettarci un miglioramento di salute, un peggioramento di salute, che ha un costo. E quindi l'idea è quella di allargare la misurazione delle politiche, degli effetti delle politiche pubbliche. Adesso le faccio un esempio. Andando oltre al, diciamo, al focus sul portafoglio, ma guardando anche all'aspetto più psicologico e di salute dell'individuo. Le faccio un esempio solo. Io ho studiato gli effetti delle riforme pensionistiche sul mercato del lavoro in Inghilterra. Hanno alzato l'età pensionabile, questo è accaduto anche in Italia. Ecco, tra i benefici di queste riforme c'è il fatto che le persone lavorano di più, questo ha tutta una serie di benefici in teoria per le persone e anche per lo Stato che ovviamente paga meno pensioni e nel frattempo prende i contributi. Ci sono anche però, per una certa categoria di persone, per esempio donne che fanno determinati tipi di lavoro, dei costi negativi in termini di peggior salute del lavorare più a lungo. Se questo venisse tenuto in conto, quando uno fa il bilancio, avrebbe il politico una visione un po' più completa per valutare le scelte pubbliche. Da noi, negli anni in cui si decideva dell'aumento dell'età pensionabile, veniva fatto l'esempio del lavoro infermieristico, che dice che non è possibile ritenere che una persona oltre una certa età faccia determinati lavori come quello infermieristico che comporta tutta una serie di movimenti, eccetera. Questo è perfettamente in linea anche con lo studio di cui raccontiamo oggi. Lo studio si concentra sulla salute mentale delle donne. Allora, questo diciamo è il punto d'arrivo. Noi eravamo partiti in maniera più generale, senza fare ipotesi. Ci chiediamo, possiamo dimostrare che la qualità del lavoro ha un impatto sulla salute del lavoratore? Possiamo dimostrare che ha un effetto causale, nel senso che se io dico all'imprenditore, al sindacato, al governo, investiamo in politiche di salute occupazionale, più corsi per la sicurezza, diamo più flessibilità, dopo facciamo alcuni esempi. Posso aspettarmi che questo aumenti, migliori la salute del lavoratore? La risposta a questa domanda non è banale. Cioè, da un punto di vista teorico potremmo dire, beh, mi aspetto che un lavoro che abbia miglior qualità porti ad aumentare la salute del lavoratore. Ma è difficile dimostrarlo con i dati. E questo è quello che noi abbiamo cercato di fare, in generale. Anche perché, mi perdoni se c'è forse un altro, e credo che l'abbiate sicuramente analizzato. Allora, per combinazione io ho una, la figlia di alcuni miei amici, lavora in Inghilterra, e dice, tu dovresti vedere dove io lavoro. Abbiamo gli open space, abbiamo, che so, il calcio balilla, quindi... E questo, da un certo punto di vista, capisco che renda piacevole anche stare sul posto di lavoro. Però poi c'è forse anche la dinamica di quello che una persona aspetta da se stessa e la dinamica di ciò che, diciamo, la proprietà aspetta da quella persona. Cioè, o forse, non so, lavorare 11 ore al giorno col calcio balilla è uguale che lavorare in un cubicolo, eccetera, oppure no. Cioè, immagino che poi anche questo abbia un ruolo. Sì, anche questo ha un ruolo. Noi non siamo riusciti a rispondere con questo livello di dettaglio alla sua domanda, perché noi usiamo dei dati raccolti da indagini statistiche molto ampie, dove si fanno tante domande alle persone, ma si ottiene per ogni domanda un sì o un no, diciamo così. Però l'idea che noi ci siamo fatti e il risultato di questa analisi statistica è che sì, queste caratteristiche del lavoro hanno un impatto. Quindi a parità di tipo di mansione e a parità di tipo di orario, per esempio, avere una certa flessibilità negli spazi, per esempio, avere una migliore, si dice in inglese exposure, diciamo, no? a dei contesti fisici migliori, ok? Quindi non saprei come dirlo, ma diciamo essere esposti, no? Sì, sì. A delle condizioni fisiche migliori ha un impatto sulla salute. Quindi queste sono, diciamo, queste sono teorie. Noi abbiamo cercato di dimostrarlo con i dati. C'è un film italiano, mi perdoni se interrompo, ma io se... No, ma poi io con i film ho un rapporto... Eh, lo sappiamo. C'è un film italiano che si chiama La terrazza di Ettore Scola, dove un funzionario, come dire, progressivamente vedeva ridursi l'ampiezza del suo ufficio. Sempre peggio lì, e alla fine questo funzionario se ne muore perché non ha più... Forse, credo, adesso il film non lo vedo da parecchio tempo, quindi probabilmente quella era anche una metafora. Però, guarda caso, la metafora veniva costruita proprio sullo... utilizzando lo spazio di lavoro. E tra le... io mi sono portato dei piccoli appunti sul nostro lavoro. Noi abbiamo usato quattro caratteristiche principali dei lavori, diciamo. Una è appunto l'esposizione, l'ambiente fisico in cui uno lavora, che è l'esempio di scuola, tra cui c'è l'esempio di scuola, no? Quindi l'ambiente in cui uno lavora, la postura in cui lavora, per dire, l'esposizione a condizioni biologiche o chimiche, no? Particolarmente pesanti. Poi c'è la qualità del working time, quindi dell'orario, ok? Quindi il fatto di avere degli orari di lavoro non tipici, lavorare sempre nel weekend, lavorare sempre di sera, di notte, per esempio, no? e il controllo su questi orari. Cioè, lei è in grado di farsi... Lei ha modo di, come dire, decidere del suo orario? Oppure le viene imposto? Questo, ovviamente, a seconda del lavoro, c'è qualcuno che può dire, vabbè, io per questa settimana cambiami il turno, mi metto di qua, di là. Altri non hanno questa possibilità, no? Questo grado di controllo è una delle caratteristiche che noi troviamo essere molto importanti per la salute mentale, per esempio. Poi c'è un'altra dimensione che è quella dell'intensità del lavoro e l'intensità è intesa come, diciamo, il carico quantitativo, quindi se il lavoro ad alto, a un ritmo molto alto, per esempio, no? Se ho delle deadline, se ho delle scadenze sempre molto strette di questo tipo, se il mio lavoro è molto interrelato con quello di altri, per cui è una specie di catena di montaggio, in cui il problema di un precedente a me mi condiziona molto. E poi c'è l'ultima dimensione che noi troviamo anche essere fondamentale, forse la più importante, che in inglese si chiama skills and discretion, talento, capacità, abilità e discrezionalità. Questa dimensione racchiude le caratteristiche dei lavori, dei lavori che hanno a che vedere con la capacità delle persone di formarsi durante la carriera, non prima, ma non solo prima, ma durante, no? La capacità di acquisire nuove capacità durante il lavoro e la discretion, la discrezionalità, la capacità di decidere qualche cosa, di avere una voce personale nel decidere come organizzare il proprio lavoro. Un po' di autonomia, diciamo, autonomia di pensiero, oppure un lavoro un po' più di routine. Com'è, diciamo, questo lavoro? Un po' più di routine, oppure un lavoro in dove ho una certa autonomia? Questa è una delle altre dimensioni che abbiamo caratterizzato, diciamo, no? Che poi, per esempio, il lavoro di routine, che molti considerano deleterio per certi aspetti, poi potrebbe essere anche vero che magari altri lo considerano, lo considerano l'ideale, per come sono fatti, adesso non vorrei dire, anche di carattere, no? Oppure, per esempio, faccio anche un caso mio, tanto i casi personali se servono vanno fatti, io per esempio ho sempre reso molto di più la mattina, anche quando studiavo, io mi ricordo che l'apprendimento migliore per me era 9-12, tutto il resto era ripasso. E credo che questo tipo di lavorare presto al mattino, eccetera, credo che mi sia un po' rimasto. A proposito anche di flessibilità di orari, eccetera. Quello che lei dice sta, diciamo, è fondamentale per noi, è una delle ragioni per cui il nostro studio aggiunge qualcosa alla conoscenza pregressa. Come si fa di solito a capire il legame tra, per esempio, qualità del lavoro e salute mentale? Si guardano le caratteristiche delle persone, la persona in un certo anno, diciamo, sta facendo un certo tipo di lavoro e intervistandolo, facendogli delle domande clinicamente validate, io posso avere un'idea vaga del rischio depressione, per esempio, o ansia di questa persona. Non è importante che sia super preciso per l'economista, diciamo, no? Ovviamente altre discipline si occupano di salute mentale in maniera molto precisa, ma noi abbiamo dati su decine di migliaia di persone e sono dati, però hanno una validazione clinica. Allora, in un certo anno lei osserva una persona, sta facendo un certo tipo di lavoro e ha un certo livello di qualità, no? Poi questa persona cambia lavoro, no? Va in un lavoro con un altro tipo di qualità, per esempio più o meno flessibile, no? E poi noi andiamo a vedere come è cambiata la salute mentale di questa persona. Noi potremmo osservare, per esempio, che la persona è passata a un lavoro migliore e la sua salute mentale è migliorata, no? Oppure potremmo osservare che è passata a un lavoro migliore, ma la sua salute mentale è peggiorata. Qual è il problema? Il problema sta proprio anche nelle preferenze. E' quello che ha detto lei. Ah, ho capito. Cioè, lei si ipotizzi. Lei può facilmente identificare casi di questo tipo. Una persona è scontenta del proprio lavoro, ha la capacità, perché magari è un po' più ricco, ha la famiglia che lo sostiene, riesce a studiare un po' di più, di cercare un lavoro migliore, quindi va a cercarselo e poi migliora di salute mentale. Però potrebbe anche immaginare che la persona, come dire... Capito, trova un nuovo lavoro, ma che però per tutta una serie di ragioni non si confaccia con... Esattamente, esattamente. Quindi non è facile capire che cosa... Non è facile trovare il legame causale che a noi serve. Per questo motivo noi non seguiamo le persone quando cambiano lavoro. Noi abbiamo dei dati cosiddetti longitudinali. Seguiamo dei lavoratori inglesi nel tempo, ma persone che restano nello stesso tipo di occupazione. Infatti l'avrei chiesto anche questo, no? Allora, questa è la novità che noi cerchiamo di introdurre. Quello che alcuni studiosi americani, non è questo il nostro contributo, alcuni studiosi americani ed europei stanno mostrando, è che uno stesso lavoro cambia di qualità, i lavori stanno cambiando. Lo stesso lavoro, diciamo, che nominalmente è lo stesso, stanno cambiando di qualità. Quindi alcuni lavori hanno più flessibilità, perché magari c'è una riforma, oppure perché è cambiato il modo di lavorare. Alcuni altri lavori diventano più pesanti, più rapporto con il pubblico, meno rapporto con il pubblico. Però è lo stesso lavoro, no? Sì, sì, sì. Impiegato. Oppure una persona che lavora in servizi recettivi, per esempio, no? Quindi quello che noi facciamo è seguire persone che rimangono negli stessi lavori, ma sono i lavori a cambiare. E quindi le preferenze della persona rimangono le stesse, diciamo. È molto probabile che le sue preferenze innate non cambino, no? Lei ha sempre gli stessi gusti, ma è il terreno sotto di lei che cambia. E noi cerchiamo di studiare se, quando il lavoratore che rimane nello stesso lavoro, ma il suo lavoro diventa, per esempio, più flessibile, o più intensivo, o più intenso, come la salute mentale di questo lavoratore cambia. E troviamo alcuni risultati. Diciamo, per questo noi possiamo ambire ad attribuire in maniera causale, uso questa parola perché per gli economisti è molto importante, possiamo dire la qualità del lavoro, se cambia, causa un cambiamento nella salute mentale del lavoratore. Diciamo, non è per via delle preferenze, l'individuo si è scelto il lavoro che voleva, o l'imprenditore ha scelto l'individuo che voleva, perché sa, se l'imprenditore sa che un certo lavoro è pesante, magari sceglie persone più sane per farlo. E quindi lei troverebbe che persone più sane stanno in lavori più pesanti, perché sono state scelte per farlo. Non possiamo dedurre che più pesantezza migliora la salute, ovviamente. Noi invece riusciamo a fare questo collegamento. E il discorso sulla donna, come si è inserito nel vostro lavoro? Finora le nostre aspettative erano generali per ambe e due i sessi. I nostri risultati mostrano che ci sono due caratteristiche del lavoro. Uno è la flessibilità di organizzazione degli orari di lavoro, quello che le dicevo prima, capacità di organizzare il proprio orario. E l'altro è il grado di autonomia che la persona ha nel compiere le mansioni. Hanno un forte impatto, se migliorano o se peggiorano, sul benessere psicologico, che vuol dire depressione, vuol dire ansia, disfunzione sociale, quindi capacità di sentirsi normali nel compiere attività di ogni giorno, per le donne e non per gli uomini. O comunque l'effetto è molto più debole per gli uomini. Quindi questo è stato il primo risultato importante per noi. Una differenza di sesso. Dentro questa differenza di sesso noi troviamo anche una differenza per il livello di età. Cioè, lavoratrici più giovani reagiscono a caratteristiche del lavoro diverse rispetto a lavoratrici più mature, in fase di carriera più avanzata. Non meglio o peggio? Beh, diciamo, non saprei dire se meglio o peggio. Per rispondere a questa domanda dovremmo fare delle interviste, quello che si chiama indagine qualitativa, che come le ho detto prima noi non possiamo fare. Però io mi sono portato alcuni esempi che le faccio volentieri. La salute mentale delle lavoratrici più giovani, che noi definiamo come sotto i 35 anni, migliora per esempio quando queste lavoratrici hanno una maggior libertà di azione in termini di responsabilità personale, nel compiere le proprie attività e nell'accesso ai programmi di formazione, per esempio. Ho capito. Ok? Per le donne invece più mature, in fase diciamo ultra cinquantenne, sono altre le caratteristiche del lavoro che impattano sulla loro salute mentale. Per esempio la capacità di contribuire in modo creativo alle attività che fanno. C'è una teoria anche nella gerontologia, nell'epidemiologia, che spiega che le lavoratrici, i lavoratori, man mano che invecchiano, hanno più difficoltà fisiche, diciamo, naturalmente. E quindi di solito però d'altronde hanno più esperienza e tendono a preferire la possibilità di compensare una maggior relativa debolezza fisica con la creatività, con l'autonomia di pensiero. E questo è confermato nel nostro studio e secondo me è molto interessante. Allo stesso tempo le lavoratrici più mature soffrono quando lavorano in condizioni dell'ambiente fisico peggiore, diciamo, o quando hanno orari di lavoro meno flessibili. Eh sì, quello è intuibile anche. È intuibile. E questo è importante, devo dire, in Inghilterra come in Italia, dove sappiamo che i lavoratori più anziani, tra virgolette, non solo relativamente più anziani, hanno una serie di conflitti, tra virgolette, opportunità, famiglia-lavoro relativamente importanti, con l'assistenza ai genitori o ad amici che hanno problemi, figli e nipoti, la famosa generazione sandwich, che bada ai propri genitori e anche ai propri figli o nipoti. In quel caso è club sandwich, ho imparato. Addirittura, perché più strati ancora. Ci sono più strati. Generazione sandwich, no? Eh sì, sono queste idee degli scienziati sociali. E noi abbiamo anche cercato di stimare un po' le percentuali di miglioramento. Noi troviamo miglioramenti nel rischio di depressione clinica, quando migliora la qualità del lavoro, per esempio, aumenta la responsabilità delle lavoratrici. Diminuiscono le disfunzioni sociali, diminuisce l'ansia, quando c'è maggiore autonomia sugli orari di lavoro. Però il nostro studio, poi noi lo presentiamo regolarmente ai politici, alle associazioni, andiamo più nel dettaglio ovviamente, vuole dire, attenzione, conta la differenza di sesso e conta la differenza d'età. Non possiamo pensare che sia tutto uguale. Le persone sono diverse. Per esempio, si sa che le donne soffrono di più di depressione in media rispetto agli uomini. Questo è assodato in Italia e anche nel Regno Unito. Siamo arrivati quasi alla fine, non vorrei impegnarla con una domanda che magari poi non ha tempo per una risposta. Posso provarci. No, adesso so che è banale come osservazione. In questo si può arrivare a dire che fondamentalmente tutto il mondo è paese oppure sarebbe troppo banale effettivamente? Ma no, direi che tendiamo a fare l'opposto in certi casi, tendiamo a dire ma questo è il Regno Unito diverso dall'Italia. Il nostro studio, siccome segue le persone nel tempo, la persona rimane la stessa. Sì, rimane la stessa, quindi indipendente. Quindi è abbastanza, è rilevante anche per l'Italia. Io credo che noi dobbiamo imparare molto dall'attenzione che nel Regno Unito c'è verso la salute mentale, che loro stimano in termini di costi sociali con un ammontare di minori profitti, minori ricavi per le persone, maggiori spese, tutto insieme fino al 5% del PIL del Regno Unito ogni anno, i costi della depressione. E questa è una cosa molto importante, cercare di togliere il velo dalla salute mentale, una cosa di cui ci si vergogna di parlare. Anche in questo tutto il mondo è paese, però bisogna fare lo sforzo e misurarla. Bisogna fare lo sforzo e misurarla. E sulla qualità del lavoro, anche in Italia se ne parla molto dopo il Covid. Io penso che in questo caso, non so se è tutto il mondo, ma in quella parte di mondo che ha raggiunto un certo livello di sviluppo industriale e di politiche sociali, penso che l'attenzione debba essere la stessa. Io ringrazio moltissimo, il professore è stato un'intervista molto piacevole nel senso stretto del termine, anche se l'argomento era veramente molto importante. Speriamo che anche i nostri telespettatori abbiano colto anche il non detto del nostro discorso. Il professor Carino, lo ripeto, è docente all'università, ricercatore all'università di Trieste, al dipartimento di economia. Ormai le vecchie facoltà, io sono ancora ancorato a quella... Anch'io ho studiato in facoltà. Grazie davvero e buon lavoro. Grazie a lei. Noi ci vediamo con Trieste in diretta domani, alle 17.30 come sempre, domani è giovedì, quindi se non sbaglio dovremo occuparci di sociale. Arrivederci, buon proseguimento di serata. Questo spazio è realizzato in collaborazione con...